allora ragazzi oggi sono in questa pazzia andrò a shoppare 3 euro e 50 di questo pacchetto di brew stars per poi arrivare a comprarmi tutto il brew pass vip e quindi dovete iscrivervi al canale con la campanellina per non perderlo domani pubblicherò il video dove spacchetterò tutto il brew pass vip ragazzi quindi state connessi nel mio account youtube eccomi qua allora 2 megacass e one tanto non troverò mai nulla e ci nulla si sa che non trovo va bene dai ora con queste gemme ragazzi e ragazze andiamo a comprare il brew pass eccolo qua ragazzi quindi possiamo già sbloccare gelino e tutte queste offerte ma lo facciamo nel prossimo video ciao